13 le richieste di condanna del PM Giulia Maggiore per le presunte truffa, i danni dei risparmiatori di banca Etruria, 4 di queste per i presunti istigatori. Secondo noi non solo non c'è alcun tipo di responsabilità, ma evidenzieremo come tutte le vicende rappresentate trovino conferma documentale opposta, cioè non esiste il reato, non è mai stata integrata alcuna truffa, anzi di fatto c'è stata un'operatività corretta e coerente come accade in tutto il sistema bancario. Tre anni e 800 euro di multa a Luca Scassellati e a Federico Baiocchi Silvestri, rispettivamente direttore dell'area mercato e il direttore territoriale di Arezzo, due anni e mezzo e 700 euro di multa a Samuele Fedeli e Luigi Fantocchi, direttore dell'area mercato e direttore territoriale di Arezzo. Per loro l'accusa e l'istigazione alla truffa, secondo l'impianto accusatorio, avrebbero infatti fatto parte della cabina di regia che avrebbe spinto alla collocazione delle famigerate obbligazioni subordinate, diventate carta straccia a seguito del decreto salva banche del novembre 2015. Il pubblico ministero ha fatto una requisitore estremamente articolata e approfondita in cui è partita dalla situazione della banca storica di dissesto e quindi dalla conoscenza che gli imputati sicuramente avevano del grave stato di dissesto nel momento in cui si ebbero a collocare queste obbligazioni subordinate che erano veri e propri titoli e spazzatura, che poi sarebbero stati spazzati via dalla messa di liquidazione dell'istituto. Richieste di condanna, un anno e sei mesi e 600 euro di multa testa anche per nove tradirettori e detti titoli. Chiesta invece l'assoluzione per un altro dirigente, Paolo Mencarelli, assoluzione anche per la presunta truffa denunciata da un ingegnere di Rigutino che aveva investito e poi perso 5.000 euro in bonda subordinati. Questa persona aveva negato la paternità di firme che invece un consulente grafologo ha certificato come redatte vergate di suo pugno. A questo punto vi è stata una ritrattazione, cioè la persona si è presentata e per evitare di far falsa testimonianza ha ammesso che le firme sono le sue. La sentenza è prevista per il 21 marzo.